Nel nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia. E ancora classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. Questo programma è offerto da Schröders. Eccoci di nuovo su Blu-Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, l'Europa già boccia l'Italia. Il condono si tinge di giallo. L'indipendenza riparte da Verona. BTP corrono rischi anche per l'arrivo dei CIR. Facebook, Zuckenberg sotto attacco dei fondi. Le start-up in ascesa incontrano gli investitori. Prosegue la tensione tra governo e Commissione europea. Sulla base delle cifre, ed è mia opinione personale, dovremo chiedere correzioni, ha spiegato il commissario europeo per il bilancio, Günther Röntinger. La manovra italiana prevede un aumento del deficit nominale al 2,4%, contro l'impegno a portarlo allo 0,8%. Ma non ci sono margini di cambiamento, ha ribadito alla stampa il premier Giuseppe Conte. La pace fiscale assume i contorni della Spy Story. In un serrato botta e risposta tra istituzioni rimangono poco chiari i dettagli del decreto fiscale. Con una pace che supererebbe i 100.000 euro, Di Maio parla di testo manipolato, ma il Quirinale smentisce di averlo ricevuto. Ho fermato io l'invio al colle del decreto fiscale, ha poi chiarito il premier Giuseppe Conte, dopo essere stato informato delle criticità sulla misura. È partita oggi la due giorni veronese dedicata alla consulenza finanziaria indipendente. Il Fionli Summit presenta un programma ricco di approfondimenti, con importanti ospiti e protagonisti del settore. Anche BluRating.com sarà presente grazie alla moderazione del coordinatore Marco Muffato durante la conferenza in programma di domani, intitolata Futuro, i protagonisti dell'industria a confronto sul nuovo mercato della consulenza finanziaria. Ennesimo allarme rosso per i titoli di Stato italiani. Dopo la pressione dello spread, un nuovo elemento potrebbe stressare i BTP. Si tratta dei conti individuali di risparmio che il governo vorrebbe introdurre con il decreto fiscale. Questi prodotti, finalizzati a promuovere l'acquisto di titoli del tesoro a partire dal 2019, potrebbero infatti viaggiare su una corsia di sorpasso rispetto alle precedenti emissioni di Stato. Attacco incrociato dei fondi a Mark Zuckerberg. Nel mirino la poltrona di presidente del social network più famoso al mondo, il nemico numero uno, si chiama Scott Stringer, controller del fondo di pensione di New York, che già detiene una quota pari a un miliardo di dollari. La prima spallata era arrivata ad aprile dopo il caso Cambridge Analytica, ma il vero attacco potrebbe arrivare tra poco con altri fondi pensione e ponti a unirsi all'offensiva. Si è svolto a Milano oggi il Milano Scalit, un evento piattaforma nato per favorire l'incontro tra gli investitori internazionali e le migliori scale-up italiane e del sud-est Europa. In sole tre stagioni la manifestazione ha favorito lo sviluppo di un sistema di aziende che ha raccolto 160 milioni di dollari da fondi italiani e stranieri. Vediamo nelle qualità delle aziende selezionate da Scalit una leva di potenziale crescita del sistema industriale e finanziario internazionale, ha commentato Giovanni Vecchio di Aeronext, main partner dell'evento. È tempo di dedicarci al consiglio del giorno proposto da finanzaoperativa.com. Il titolo della giornata è Ray Whale, buy di banca Acros con target price a 5,22 euro dopo un'apertura in mattinata a 4,45. La società pubblicherà i risultati dei primi nove mesi il prossimo 14 novembre. Gli analisti sono piuttosto fiduciosi. Ecco infine la migliore e la peggiore performance nella categoria dei fondi comuni aperti retail quotati in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. Primo premio per Allianz, mentre la maglia nera di giornata è per Franklin Templeton. Qui da Bluretti News è tutto, un buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto da Schröders. Il titolo della giornata è un buon investimento a tutti voi. Il titolo della giornata è un buon investimento a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti